Ciao a tutti i miei carissimi amici, io sono Rosalia Rossella Matanzo e ci sono qui per parlarvi della Grotta di Movile. Volete sapere dove si trova e perché è così famosa? Allora continuate a guardare questo video. La Grotta di Movile si trova in Romania, a pochi chilometri dalla costa del Mar Nero e si accede tramite un pozzo artificiale di 18 metri di profondità. Inoltre al suo interno vi è anche un piccolo laghetto sotterraneo. Ma questa non è la sua più grande peculiarità, infatti questo posto è anche famoso per il suo ecosistema acquatico ricco di nitrite carbonica e povero di ossigeno. Infatti questo posto, la Grotta di Movile, è rimasto separato dall'esterno per 5,5 milioni di anni. E quindi al suo interno si è evoluto un ecosistema la cui vita si basa completamente sulla chemiosintesi anziché sulla fotosintesi e quindi su batteri che si nutrono da particelle sospese nell'acqua anziché dalla luce solare. Questi batteri 2 costituiscono una catena alimentare autartica unica al mondo. Inoltre al suo interno sono state anche scoperte ben 46 specie di animali. Ovviamente si tratta di animali tutti adatti ad un ambiente privo di luce e di ossigeno. Anche io nel mio quarto libro Chris Emerald e la principessa dragoniana ho parlato di questo posto ed essendo privo di luce e di ossigeno l'ho reso il luogo abitato dei vampiri. L'ho descritto così come in natura. Ho semplicemente aggiunto due ambienti artificiali simile ad una serra, uno pieno di polli e galline e un altro pieno di umani in uno stato così selvaggio da sembrare affetti da rabbia. Inoltre poi ho anche aggiunto tantissimi pipistrelli che all'occorrenza si sono anche trasformati in vampiri e attestati di sangue. E voi che cosa ne pensate? Per oggi voglio concludere così questo video. Spero tanto che vi sia piaciuto. Grazie per l'attenzione e come sempre alla prossima. Ciao!